nuova puntata oggi 14 maggio 2024 prima di incominciare come sempre vi ricordo che se questi video vi interessano potete iscrivervi al canale youtube così come al canale telegram il vento di nord est e a visitare il sito il vento di nord est sono tante le novità ma che vanno sempre nella stessa direzione poi sostanzialmente nell'ambito della politica internazionale e per quanto riguarda la difficile questione ucraina in russia il governo sostanzialmente dopo le lezioni di vladimir putin ha avuto una sorta di rimpasto se gay shoglu non è più ministro della difesa e questo è un elemento di non secondaria importanza ma non inaspettato tenendo conto che dall'inizio della contrapposizione dell'operazione speciale che la russia ha portato in ucraina la figura di shoglu non è mai stata così gradita se vogliamo alle stesse logiche della politica di vladimir putin al suo posto un economista che in questo momento sta destando delle perplessità ma anche delle valutazioni su quali siano le linee direttive che poi la russia vuole adottare in questo momento storico anche perché l'impressione anzi più che l'impressione quella che ormai si sta mostrando la essere la realtà la guerra in ucraina e proseguirà proseguirà almeno per tutto l'anno e in ballo ci sono diversi aspetti perché non possiamo dimenticare che il 2024 è l'anno delle elezioni già state in russia che hanno confermato putin ma delle incertissime elezioni per quanto riguarda il rinnovo del parlamento europeo e di conseguenza chi guiderà la commissione europea e dall'altra parte ovviamente la sfida tra joe biden e donald trump il 5 novembre del 2024 che andrà a concludere questo cambiamento o conferma nel contesto globale per quanto riguarda appunto la gestione della politica quello che è fondamentale ed è fondamentale nel tentativo di andare a comprendere quello che accade nel contesto globale e che sostanzialmente noi si dia la giusta attenzione e valore a quella che è la scienza politica partiamo da un'affermazione la scienza politica è una cosa assolutamente seria la politica in quanto tale è un qualche cosa di estremamente complesso perché per poterla comprendere occorre mettere assieme numerosi elementi elementi che si legano ai fattori economici ai fattori giuridici ai fattori sociologici e senza dimenticare quello fondamentale legato al fattore storico perché mai come in questo momento guardare alla storia ci può dare delle indicazioni per comprendere il futuro guardare il passato compararlo con il presente per interpretare quali saranno le prospettive nella direzione del futuro come a dire che le esperienze che ci sono state sono fondamentali per poter evitare soprattutto di fare errori e da qui la scienza politica come detto deve essere affrontata in maniera seria altrettanto non possiamo però dire da parte di molti talk show programmi che in questo momento ovviamente trattano questi aspetti a livello anche televisivo che di fatto sono tendenzialmente portati ad affrontare la scienza politica in modo politico che un qualche cosa che di fatto è una sorta di paradosso perché in realtà all'interno della stessa scienza politica esiste anche la stessa politica la politica ovviamente portata dai partiti portata da tutto quel sistema che li circonda anche di interessi e da qui la richiesta la necessità la l'esigenza di avere una scienza politica affrontata in modo professionale proprio per non dare delle immagini distorte di quello che sta accadendo e portare poi sostanzialmente ad una incomprensione le valutazioni che sono in questo momento portate nei confronti della russia e sono delle valutazioni che mettono in evidenza come un paese guidato da vladimir putin sostanzialmente voglia devastare il contesto europeo mettendo da parte però tutti quegli errori strategici portati dall'europa stessa e lo sappiamo molto bene come a dire alla vigilia delle elezioni europee si parla di una necessità basata come sempre su quella parola paura la paura che di fatto l'europa possa sparire possa sparire perché il nemico alle porte potrebbe avanzare nel caso in cui l'ucraina dovesse cadere da qui la necessità la necessità di affrontare determinate situazioni come ad esempio la corsa alle armi a livello europeo proprio per mantenere salda l'europa in quanto tale con tutti i suoi valori e i suoi principi le valutazioni come detto sono tante anche perché come detto la storia la storia si trova al centro dell'attenzione e la storia recentissima ci insegna come invece queste decisioni che sono state portate in particolare dalla commissione europea a guida ursula von der leyen abbiano portato l'europa proprio a una sorta di percorso di autodistruzione e che non vede nel futuro una sostanzia un sostanziale cambiamento a livello comunicativo si punta il dito nei confronti delle cosiddette forze sovraniste viste come l'elemento di negatività e di una forma di mancanza di proseguimento della stessa storia dell'unione europea ma è altrettanto vero che sono proprio le forze che in questo momento guidano l'europa che hanno portato l'europa stessa nella direzione invece di quella che a detta di molti potrebbe essere rappresentata dalle fasi successive ovvero la realtà di una guerra che potrebbe vedere l'europa coinvolta e da qui appunto la necessità come detto di guardare la scienza politica in modo assolutamente opportuno e soprattutto freddo di fronte alle diverse situazioni la russia come detto si trova ad affrontare un momento di cambiamento in realtà il cambiamento non c'è stato perché Vladimir Putin è sempre alla guida del della russia stessa ma le visioni della politica ci danno delle indicazioni perché il cambiamento è portato proprio da quella approvazione da parte del congresso americano di ulteriori 61 miliardi di finanziamenti all'ucraina che andranno nella direzione delle armi e da qui dobbiamo guardare anche la situazione perché il tempo il tempo sarebbe quello necessario per poter far finire al più presto una guerra se effettivamente la contraposizione con la russia è un qualche cosa avvertita negativamente la guerra ovviamente si vorrebbe che finisse al più presto ma intanto dobbiamo tener conto che quel finanziamento se ne parlava già dal mese di dicembre quando Zelensky arrivava negli stati uniti e chiedeva al congresso americano e soprattutto la componente dei democratici che di fatto operassero a favore di questo di questo percorso un finanziamento che è arrivato nel mese di tra aprile e maggio e adesso probabilmente le armi arriveranno tra due mesi come a dire i tempi si dilatano si dilatano perché nell'osservazione di quanto sta accadendo nel contesto della guerra in ucraina come abbiamo detto dobbiamo mettere in attenzione in osservazione la stessa campagna elettorale statunitense per joe biden arrivare alle elezioni è fondamentale arrivarci anche con la guerra in ucraina proprio per mettere in evidenza un ruolo fondamentale in difesa di principi e valori democratici che vengono normalmente utilizzati come elementi di convinzione degli elettori ad andare in una direzione oppure in un'altra da parte dello stesso donald trump invece le valutazioni vanno nella direzione esattamente opposta come dire che quella guerra ha causato quei problemi che in questo momento gli stati uniti vivono al loro interno e da qui l'incapacità di una politica estera dimostrata da joe biden per donald trump è fondamentale che la guerra in ucraina vada avanti proprio per mettere in evidenza l'incapacità dei democratici di joe biden in particolare di essere riusciti a trovare una soluzione alla fine però il dubbio si pone dopo il 5 di novembre che cosa accadrà per quanto riguarda l'ucraina ebbene le valutazioni che possiamo fare possono andare a portarci magari allo stesso risultato ovvero che la stessa guerra in ucraina non diventi più così necessaria non diventi così più necessaria diventi un problema sostanzialmente europeo un'europa destabilizzata in nome di una campagna elettorale statunitense che non ha più bisogno della guerra in ucraina e l'obiettivo se vogliamo ovvero di un'europa debole è stato raggiunto per joe biden nel caso in cui fosse eletto ebbene il problema non si porrà ci sarà una continuità affidando all'europa l'incarico di andare a rimediare a tutti i problemi che si sono venuti a creare per donald trump il problema ancora meno si porrà perché donald trump si è sempre mostrato vicino alla russia di vladimir putin storicamente in una posizione anche di amicizia e contemporaneamente di ostilità di ostilità nei confronti proprio di quell'unione europea che già vedeva in maniera ostile quando durante il 2016 durante le campagne elettorali che venivano portate nel regno unito in nome della brexit donald trump era lì benché presente ancora non presidente degli stati uniti e che portava la sua vicinanza al popolo inglese al fine che appunto il regno unito uscisse dalla stessa unione europea e per donald trump l'unico problema che potrebbe venirsi a creare è la relazione con il pentagono perché ovviamente le ipotesi che donald trump sta portando nella valutazione di uscire dal contesto della nato o quantomeno diminuire maggiormente le spese sostanzialmente nella direzione della nato implica una diversa visione delle strategie dello stesso dello stesso pentagono è logico che le valutazioni di donald trump in riferimento ovviamente alla nato in quanto tale e alle spese andrebbero a gravare nel contesto dell'unione europea e da qui torniamo di nuovo a quegli aspetti legati ai principi e ai valori alla democrazia e a tante altre belle parole che vengono utilizzate in questo momento per convincere maggiormente i cittadini europei ad accettare sostanzialmente accettare in nome della paura un esempio che viene portato in questo momento di accettazione in nome di una paura benché presente è quello che è rappresentato dalla svezia dove la svezia ha di fatto abbandonato la sua posizione per entrare nella nato e ancor di più per entrare in un accordo in un accordo fortemente limitativo della propria sovranità con gli stati uniti dove tutto verrà sostanzialmente concesso agli stati uniti sul proprio territorio in nome di una difesa di una cooperazione in nome della difesa ebbene in questa situazione così particolare così caotica si inseriscono anche le elezioni ovviamente dell'unione europea dove ursula von der Leyen candidata ufficiale del partito popolare europeo ma assolutamente non gradita dal partito popolare europeo in ogni caso porta alla sua campagna elettorale in visita a roma auspica che giorgia meloni possa confluire perché è importante importante e importantissimo che ci sia un ampio sostegno a quella che è l'europa quelli che sono i suoi principi quelle che sono tutte quelle cose che come detto vengono utilizzate in questi momenti legati soprattutto al convincimento da un lato per quanto riguarda il voto dall'altra parte per quanto riguarda i sacrifici che dovremmo tutti quanti affrontare in determinate direzioni e contemporaneamente alla stessa ursula von der Leyen anche Tajani porta delle valutazioni su quanto sia necessario andare nella direzione della creazione di una difesa europea per una politica estera e soprattutto per portare anche quei principi e valori di pace europeo allora il discorso diventa ancora più complicato nel momento in cui si va a cercare nell'interpretazione di una politica estera la necessità di avere una difesa anche perché non possiamo dimenticare come ad esempio per quanto riguarda la Francia una difesa europea è assolutamente importante in nome degli interessi francesi che si trovano proprio nel contesto africano per quanto riguarda i discorsi legati all'uranio presente nel Niger e alle esigenze della Francia di esercitare una funzione di controllo proprio su quelle aree specifiche. Nel frattempo però come detto il discorso legato alle valutazioni della scienza politica e di come questa viene portata nell'ambito massmediatico e comunicativo per essere appunto portata all'attenzione dei cittadini europei ma anche per dare delle linee come dire delle linee guida nel vedere le cose ebbene mette in evidenza in questo particolare momento tutta la sua debolezza al punto tale che la preoccupazione che i cittadini non vadano a votare nel corso appunto di queste elezioni europei è benché presente. Probabilmente c'è una sottovalutazione di quella che è la preparazione del cittadino da parte del contesto in generale della politica a livello europeo. I cittadini oggi sono molto più preparati e soprattutto molto più critici ed attrezzati nel saper individuare e comprendere le situazioni e non possiamo dimenticare che gli ultimi anni a partire proprio dal 2020 di esperienze difficili che hanno messo in evidenza anche e hanno portato molti dubbi nella valutazione non solo sulle capacità ma anche sulle direzioni e sulle motivazioni da parte della politica e di molti politici ebbene sono lì che hanno rappresentato come dire un rapido corso di formazione per lo stesso cittadino europeo tant'è vero che nell'ambito delle diverse occasioni elettorali abbiamo avuto modo di assistere a quello che è il fenomeno principale della preoccupazione della politica contemporanea ovvero l'astensione. E da qui sono tanti gli appelli lo stesso presidente della repubblica Sergio Mattarella invita ad andare a votare fondamentale per affrontare appunto le riforme i grandi cambiamenti che in prospettiva potrebbero esserci per l'unione europea. E allora se noi mettiamo sul nostro tavolo dove possiamo osservare dall'alto tutte le questioni che in questo momento sono lì benché presenti abbiamo tanti elementi abbiamo quello appunto elettorale in Russia in Europa negli Stati Uniti abbiamo una guerra in Ucraina abbiamo un cambiamento di prospettiva a livello economico perché attenzione che l'economia di guerra serve anche a sostituire il fallimento di un sistema economico che di fatto si è trovato bloccato proprio da quelle limitazioni da quei lockdown che sono stati portati in periodo pandemico. E di fronte a questa situazione e di fronte a questo caos alla fine ci si ritrova proprio tutti quanti tutti quanti uniti nelle difficoltà ma delle difficoltà oggettive pratiche concrete reali ma e a tutti noi ovviamente ne vengono chieste ulteriori ma non in nome della soluzione delle difficoltà pratiche oggettive reali ma in nome di ipotetici percorsi di difesa di diritti quando in questo momento storico abbiamo avuto molto abbiamo avuto modo di vedere come gli stessi diritti anche nella nostra quotidianità siano stati messi in discussione delle nostre stesse realtà politiche che oggi parlano appunto di impegnarsi per difendere questi diritti. Per oggi abbiamo concluso.